Ormai la sinistra continua a parlare di fascismo, di antifascismo, eccetera, al punto che si è inventata una nuova polemica, quella del saluto fascista. Cioè chiunque alzi la mano anche per togliersi il cappello viene accusato di fare il saluto fascista. Vabbè, insomma, ogni partito usa le armi di cui dispone e ormai la sinistra dispone soltanto dell'antifascismo. Ma in realtà il saluto romano, siccome si chiama romano, non ha niente di fascista, l'hanno inventata i romani, gli antichi romani, che siccome avevano rispetto anche dell'igiene, si salutavano in quella maniera, cioè col braccio destro alzato, la mano aperta e nessuno diceva loro niente. Poi, siccome questo saluto è stato adottato anche dal fascismo, adesso chiunque, ripeto, viene accusato di...